Buonasera, sono Simona De Lorenzo, questa è la mia seconda esperienza scrittura viva, sono già venuta qui dieci anni fa e ora mi ripeto che ho questo nuovo progetto in fase di finitura, il progetto ve lo spiego un attimino, è una pietra rotta, spezzata, in cui sarà applicato degli inserti in marmo di carrare, perché ci saranno una sorta di cucitura, come quasi a riunire le due pietre, il sasso rotto, e questo vuole tunificare, diciamo, il sasso con l'umanità ferita, insomma sofferta di questi tempi, di tutto, e questa cucitura vuole essere un po' il sentimento della solidarietà che vuole unire l'umanità per rafforzarla e rimanere unita. La scelta di due materiali vuole rafforzare questo concetto della solidarietà e per un'umanità più forte. sicuramente piacerà, perché in questo momento c'è bisogno di progetti che richiamano l'unione. Assolutamente, sì. Diciamo che siamo anche in un'epoca dove tutto ciò che si rompe si butta via facilmente, sia nelle cose sia nelle relazioni, e io sono per ricuscire e rafforzare. Anche se non sempre ci si riesce. Non ci si riesce, non è facile, si sceglie la strada più facile di gettare, però se ci riesce ti si diventa più forte e più nitide. Grazie.